Volevo ringraziarla per essere qui e poi, non so, si introduca da solo. Cioè, immagino... Ma io sono un cretino come tutti, quindi... Non so, cosa studia. Cioè, io ho letto quello che... Le cazzate che scrivo. No, no. Ma niente, io ho avuto questa passione, diciamo, da quando ero studente. Diciamo, io ho studiato psicologia, ma sono arrivato a psicologia su una strada un po' strana, perché alle scuole superiori avevo fatto l'industriale, meccanica. E niente, cioè... Io avevo iniziato a interessarmi su temi tipo quelli... Se le leggi della fisica o la matematica, diciamo, l'uomo le aveva inventate o scoperte. Soprattutto la matematica, no? Anche se era, diciamo, era nato più in ambito della fisica. Avevo un professore di meccanica, dei notaris, che tutte le volte che doveva fare qualche formula all'istituto tecnico-industriale partiva da altre leggi fondamentali della meccanica di Newton. Diceva, ma Newton, queste cose se le ha inventate, la realtà è veramente fatta così. È possibile che, diciamo, ci sia una formuletta così stupida, semplice, scema, che funzioni per tutto l'universo. La forza è uguale alla massa per l'accelerazione. Ma è possibile che tutto l'universo funzioni così davvero? E vabbè, poi, quindi io ero militare, e già quando si era militare non si aveva molto da fare, e allora mi sono iscritto a psicologia. Non tanto per studiare la fisica, ma per, diciamo, tentare di esplorare un pochettino quello che era la conoscenza che si era prodotta fino a quel punto su questo tema, se effettivamente, diciamo, l'uomo scopriva le leggi della natura o se le inventava per essere più operativo. E quando mi sono iscritto a psicologia ero rimasto un po' deluso, perché la maggior parte delle studentesse che si iscrivevano a psicologia si iscrivevano perché avevano problemi psicologici. Che dal mio punto di vista era un grande vantaggio, devo dire, soprattutto a quell'età, essendo giovane, questo facilitava molto le relazioni, mettiamola così. Però non c'era molta corrispondenza con quelli che erano i miei interessi. Fino a quando, per fortuna, tra il primo e il secondo anno, ho conosciuto un professore, avevo conosciuto prima il suo libro, uno dei suoi libri, che si chiamava Cervello e Storia, che invece impostava il discorso della psicologia più su delle basi che in qualche modo potevano offrire una maggiore opportunità di dare una risposta a queste domande, perché raccontava la storia della scuola storico-culturale sovietica di Avigotsky, Leontiev, Luria, che riconoscevano, nel sviluppo culturale dell'uomo, la peculiarità dei processi cognitivi che ci distinguevano dalle altre specie viventi. Quindi all'evoluzione biologica si era sostituita un'evoluzione culturale tutta mediata dalla creazione di artefatti, di strumenti che potevano essere sia materiali che concettuali. Anzi, la cosa che mi appassionò di più è che per loro non esisteva una differenza fra strumenti materiali e concettuali. Cioè la scrittura o un martello avevano fondamentalmente le stesse proprietà, perché loro riconoscevano una natura duale a tutti gli artefatti. Ogni artefatto ha una natura sia materiale che duale. Faccio un esempio per comprenderci. Uno abbastanza anche sorprendente, se vogliamo. Prendiamo il denaro, no? Il denaro è un artefatto culturale, l'abbiamo creato noi, e ci serve per mediare delle relazioni, serve per tantissime cose, e però è associato sempre a una controparte materiale. E questa controparte materiale è cambiata nell'evoluzione culturale. Da prima è stata associata direttamente a materiali che rappresentavano un certo valore, l'oro, l'argento, le prime monete. In realtà le prime prime monete erano fatte proprio come degli assegni, cioè erano le tavolette sumere che riportavano scritto io ho consegnato tot pecore al mio pastore e mi aspetto che lui mi riporti queste pecore. Poi queste tavolette sono diventate io darò tot pecore o tot giare di latte al portatore di questa tavoletta. e quelle sono state le prime, diciamo, si è passato da una rappresentazione di un patto fra un proprietario e un sussidiario al fatto di avere in quelle tavolette una rappresentazione di un bene, di un valore. E questa dicitura è rimasta sulle banconote per tanto tempo. Poi c'è stata la completa smaterializzazione e che poi vedremo che non è una vera smaterializzazione e per cui si è passati a questa prima forma di rappresentazione tipo assegno, chiamiamola. Però subito dopo sono state le monete di bronzo, di rame, di argento o addirittura d'oro. Ed è stato così per tantissimo tempo fino a che non sono state poi sostituite da la carta moneta che era un fiat money. E poi siamo arrivati diciamo alla moneta digitale e ultimamente alle criptovalute. Ecco, se noi guardiamo, ognuno di questi artefatti permetteva di fare alcune operazioni che gli altri artefatti non permettevano. il valore, per esempio, delle criptovalute sta proprio nel tipo di operazioni che è possibile compiere con quella valuta rispetto a quello che invece possiamo compiere anche con una carta di credito. Noi possiamo fare, per esempio, con le criptovalute noi possiamo finanziare le guerre, pagare la droga, fare giri di prostituzione, tutte cose illegali che sfuggono completamente al controllo. E posso anche tracciare però tutto quanto quello che è stato il flusso di questi denari senza sapere però mai chi sono le persone. E questo gli dà un enorme vantaggio perché non possono essere di fatto diciamo falsificate. Una qualunque... Se io prendo una carta moneta da 10 euro e ne faccio una copia uguale identica, atomo per atomo ancora quella non sarà una moneta da 10 euro io sarei un falsario. E questa cosa non è possibile farla con una criptovaluta e questo gli dà dei vantaggi. Quindi anche una istituzione come il denaro che è un'istituzione basata sull'intenzionalità condivisa sul fatto che entrambe le parti sono pronte a riconoscere a quell'oggetto un certo valore ed è soltanto in questo accordo che esiste diciamo l'istituzione moneta. Se io non la riconosco più di fatto perde di qualunque possibilità di essere utilizzata in uno scambio. Sì perché tutti la riconosciamo. Non c'è niente. Eh? Cioè tutti quanti riconosciamo il valore di... Tutti quanti riconosciamo. E nella misura in cui non lo riconosciamo per esempio non riconosciamo più i rubli per poter fare gli scambi. No? Sì sì, sbetti di aver valore. E qui si perde completamente il valore. Quindi sta nella nostra intenzionalità condivisa è un artefatto concettuale però che deve avere una controparte materiale e quella controparte materiale gli dona alcune proprietà che ne modificano le possibilità d'uso perché le rappresentazioni, gli strumenti servono proprio a questo a trasformare il nostro rapporto con il mondo, no? Quindi la parte materiale modifica la nostra relazione con il mondo e questa è la proprietà fondamentale di tutti quanti gli strumenti sia materiali che concettuali. E ovviamente anche i strumenti materiali sono fortemente concettuali perché ad esempio c'è anche nella come dire nella saggezza comune il detto a chi ha un martello ogni problema sembra un chiodo, no? Ok. Perché perché il fatto che tu hai quello strumento in mano praticamente vincola gli scenari immaginari le tue lo stato intenzionale che tu puoi generare. Certo. Sono i due lati proprio della stessa medaglia ogni artefatto ha una componente materiale e una concettuale sono inseparabili e di fatto organizzano la nostra natura cioè tutta quanta la società è basata su artefatti e questi artefatti ne caratterizzano profondamente tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana tutta la nostra attività è mediata da artefatti non c'è quasi niente che oggi facciamo che non sia non mediato da artefatti niente assoluto dovremmo anche diciamo possiamo andare in delle società molto primitive per trovare che gli artefatti abbiano un ruolo perlomeno ristretto ma quelli diciamo materiali perché quelli concettuali che hanno però una corrispondenza il Dio c'è una rappresentazione nel totem ma anche se uno rifiuta l'idea di poterlo rappresentare questo fatto qua viene materializzato nel fatto che non ci devono essere icone tipo per gli ebrei e quant'altro insomma mo vabbè sono partito per la tangente però è un discorso molto interessante mi hai mi hai fatto venire in mente con questa cosa che dicevi delle cripto il video che su TEDx che ho visto tuo dove parlavi appunto dei primi token di questo libro e mi aveva appunto ricordato la cosa delle cripto perché appunto sulle cripto ci sono questi token quindi un legame diretto che era l'esempio che facevi prima appunto della dualità quindi fisico e precisamente così come si è ricorsi a diciamo a una controparte materiale il numero nasce come necessità per amministrare i beni per poter amministrare dei beni sia in situazioni molto diciamo banali all'interno di una ristretta cerchia come può essere quella appunto di un pastore che deve amministrare le proprie greggie come fa a sapere che lo stesso numero di pecore con cui è andato al pascolo è rientrato totalmente quando non c'erano ancora i numeri come facevano ecco tu devi pensare che con i sassolini precisamente quindi facevano questa corrispondenza e questi sassolini perché venivano scelti i sassolini e non delle ananas delle rocce perché i sassolini erano diciamo facilmente manipolabili comodi potevano stare in un sacchetto no quindi le loro proprietà legate alla manipolazione erano la cosa che li rendeva privilegiati per poter rappresentare quel particolare oggetto e questo ci ha permesso di comprendere che il vero potere dei simboli sta proprio nelle modalità con cui noi li possiamo manipolare cioè un simbolo trova il suo potere non nella relazione rappresentato rappresentante perché ogni cosa può rappresentare qualunque altra cosa e questa la letteratura è chiara però noi stessi possiamo permetterci di dire che questa cosa sta per quella d'accordo e un simbolo efficace quando permette di farci effettuare le operazioni che noi vorremmo eseguire sull'oggetto che stiamo rappresentando in caso delle pecore poter tener conto di quante sono senza neppure avere idea dei numeri noi non abbiamo bisogno ancora di aver creato i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 abbiamo bisogno semplicemente di una corrispondenza 1 a 1 e questa corrispondenza deve essere facilmente gestibile e quindi scelgo dei sassolini più o meno delle stesse dimensioni per poter facilitare oppure inizio a scegliere dei sassolini leggermente diversi perché magari voglio associare quel sassolino a quella particolare pecora a cui tengo particolarmente dico queste cose perché effettivamente sono stati fatti degli studi antropologici sia nelle società italiane per esempio in Sardegna ma anche nel Salento sia in in nuova non mi ricordo com'era la nuova Guinea dove effettivamente sono state riscontrate queste modalità operative ancora pochi decenni fa dove effettivamente ci sono ancora per esempio è stato documentato da Denise Chema Bassera che queste popolazioni della nuova Guinea andavano a commerciare le noci di cocco che raccoglievano dagli alberi non portando direttamente le noci di cocco al mercato ma portando dei sassolini e poi avevano per delle noci di cocco particolarmente buone o che apparivano tali avevano dei sassolini speciali in qualche modo d'accordo e quindi queste sono state le modalità con cui l'umanità ha iniziato a creare i primi artefatti che ci hanno portato poi al numero perché questi sassolini noi iniziavamo a utilizzarli per le noci di cocco per le pecore per leggiare d'olio e quindi questo fatto ha creato il tramite per cui ha questa corrispondenza puntuale fra sassolino e olio sassolino e occo e oro e occo e cocco sassolino e pecora piano piano è venuto fuori che quella entità poteva essere più o meno isolata e quindi i processi di enumerazione nascono da queste attività pratiche legate all'amministrazione e iniziano proprio ad essere associati alla scrittura perché c'è questa storia bellissima che loro mettevano questi sassolini in queste bolle per poter quando per esempio il greggio doveva stare via settimane no allora per evitare che ci fossero una manipolazione nel sacchetto questi sacchetti venivano sigillati dentro delle bolle di argilla e a ritorno venivano rotte però a volte queste dovevano essere fatte per una compravendita e in ogni caso se bisognava fare questa compravendita se c'erano delle cose bisognava rompere allora qualcuno venne in mente invece di andare semplicemente a mettere i sassolini dentro le bolle di argilla di andare a imprimere le forme dei sassolini sulla parte esterna e quindi c'erano tante impronte quanti erano i sassolini dentro e questo fatto qua ha portato piano piano alle tavolette di di argilla quello che dicevamo prima dai token poi dopo siamo passati alle tavolette perché sull'esterno delle bolle che sono diventate piatte hanno iniziato a rappresentare diciamo l'oggetto che c'era dentro e questa rappresentazione era fatta le prime volte semplicemente con l'impressione del token avevo per esempio un cono un quadratino una pietra che assomigliava più a un quadratino una più a un cerchetto e quindi l'andavo a imprimere e le potevo distinguere una dall'altra poi sono iniziato a crescere i beni per esempio si è prodotto a tessuti birra e a questo punto sono venute a mancare le forme diverse e quindi hanno iniziato a incidere i token cioè a fare su questi token delle incisioni a questo punto però era più difficile che quelle incisioni non venivano di fatto perfettamente riprodotte nell'impressione allora hanno iniziato a fare le incisioni direttamente sulla tavoletta quindi quelle incisioni tant'è vero che ci sono proprio delle tavolette che sono in parte per impressione e in parte per incisione ok le tavolette sono all'inizio addirittura le tavolette non sono altro che queste bolle schiacciate in modo tale da renderle non c'era comunque infatti una vera scrittura era sempre per simboli no precisamente la scrittura nasce dal numero dal fatto che si inizia questa necessità di enumerare e poi di associarla ad un particolare bene quando iniziamo a separare il numero da quello diciamo dal bene che rappresenta e li affidiamo a due simboli diversi nasce la scrittura quando uno ha più simboli e poi dopo ne cambia magari anche l'ordine a quel punto e qui siamo sul 3000 siamo sul 3000 avanti Cristo in Mesopotamia poi ci sono diversi tipi di scritture che evolvono diversamente però questa è quella che poi ha portato alla diciamo alla cultura del Medio Oriente e poi a quella greca e quindi questa storia degli artefatti ha sempre appassionato perché di fatto questi strumenti hanno permesso ai nostri processi di pensiero di evolvere di trasformarsi che era la tesi della scuola storico-culturale dicendo che appunto la gran parte dei processi cognitivi superiori non venivano dal nostro codice genetico il nostro codice genetico predisponeva un cervello pronto per poter sfruttare le possibilità della cooperazione sociale e dalla cooperazione sociale sono nati questi strumenti perché alla base di tutto c'è questa forte cooperazione sociale che noi non troviamo nelle altre specie le altre specie se cooperano cooperano sempre per fini individuali hanno processi di empatia per cui possono assistere uno che sta male e quant'altro però per esempio se devono cacciare le iene ma anche i scimpanzei i gorilla e sono in una squadra di 5 o 6 se uno viene meno nessuno si ferma a soccorrerlo loro semplicemente si ridistribuiscono per poter proseguire nell'attacco ok non c'è quando le iene attaccano quando i gorilla le scimpanzee attaccano di fatto pensano esclusivamente all'obiettivo poi ci sono state tutta una serie di esperimenti molto molto belli fatti da Michael Tomasello Brian Herr su questi diciamo sul fatto che gli altri primati riescono perfettamente a comprendere le intenzioni delle altre dei cos specifici ma non comprendono le intenzioni comunicative il pointing voi potete andare allo zoo e cercate di dire a un animale meno fortunato che non ha preso cibo che c'è del cibo da qualche parte potete inventarvi le peggio cose e non riuscirete a dirglielo perché lui non comprende che voi potete fare delle cose che sono nel suo interesse c'è un esperimento bellissimo e funziona così c'è stata tutta una preparazione con questi scimpanzee per farli comprendere che sotto dei bicchieri capovolti ci può essere o non ci può essere del cibo quindi immagina che a questo punto ci sono due bicchieri capovolti su uno di questi bicchieri sotto uno di questi bicchieri capovolti c'è del cibo sull'altro non c'è del cibo e entra lo scimpanzee in scena lui sa che sotto i bicchieri ci può essere del cibo e lo sperimentatore fa il gesto di andare a prendere uno dei due bicchieri immediatamente lo scimpanzee va verso quel bicchiere lo solleva e trova il cibo se però invece del gesto di andare a prendere lo sperimentatore fa il gesto di indicare il comportamento dello scimpanzee è il random 50% va da una parte e 50% va dall'altra lui non riesce a comprendere quel gesto così non è prendere che cos'è non ha significato per una specie che non comprende che un'intenzione di un con specifico possa essere rivolta nell'interesse della persona con cui sta interagendo ok ma quindi faccio un esempio io ho appunto dei cani nel momento i cani lo comprendono ok infatti perché infatti stavo proprio per dire c'è una specie che è stata selezionata dall'uomo da millenni ma questo anche per esempio è fantastico perché loro comprendono le intenzioni comunicative dell'uomo ma fra loro non hanno la capacità di generare intenzioni comunicative con i gesti i cani quando sono in branco anche loro presentano lo stesso comportamento degli scimpanzee o delle iene e quando sono in branco ci può essere una relazione magari individuale per cui magari sarà stata perché hanno avuto dei rapporti o altro che se uno ha un problema il zoppo e via dicendo può ricevere a volte assistenza ma non è il gruppo che in una situazione in cui loro stanno cercando di procurare cibo coopera come un team il loro modo di operare è situato è dettato direttamente dai punti di vista individuali che si trovano ad interagire e creano dei vincoli reciproci ma non c'è un coordinamento centralizzato né tantomeno un coordinamento chiamiamola multiagente con un piano condiviso certo mi chiedevo appunto nel caso di una perché mi dice dice il tempo rimanente sono due minuti ma ne partiamo con un'altra vabbè adesso continuiamo così poi dopo interrompo ma è molto strano perché in due ha sempre funzionato quindi non lo so vabbè adesso no appunto mi chiedevo due cose appunto l'animale che si fa male non viene diciamo accudito dagli altri del branco ma l'animale ad esempio che è non so la femmina con i cuccioli allora questa è l'ipotesi di una ricercatrice che si chiama Susan Hardy credo Hardy sono sicuro il nome non me lo ricordo lei sostiene proprio questo che l'intenzionalità condivisa sia sorta proprio durante il periodo della prima maternità che tant'è vero che durante la prima maternità le femmine degli scimpanzee hanno questa diciamo non soltanto atteggiamento di cura e di attenzione verso procurano il cibo e quant'altro ma lo condividono condividono veramente il cibo però dura soltanto quella fascia là poche settimane dopo quell'individuo diventa un individuo come gli altri quindi noi abbiamo un periodo sensibile che effettivamente denota la capacità di sembra di intenzionalità condivisa anche se è un'intenzionalità che è più vissuta diciamo dalla mamma addirittura ci sono delle testimonianze che mostrano come l'altra specie dove ci sia una forma di intenzionalità condivisa prolungata fra madre e figlia siano le balene però ancora una volta in una situazione molto particolare le mamme delle balene che stanno per partorire spesso sono accompagnate dalle loro madri nel parto ok questa la storia evolutiva dell'intenzionalità condivisa è una storia che si sta cercando di scoprire tra le varie specie non c'è ancora moltissima diciamo documentazione però questa della diciamo della nascita e della primissima infanzia è molto probabilmente diciamo l'evidenza più forte che abbiamo dell'insorgere dell'intenzionalità condivisa del fatto che noi abbiamo un'intenzionalità del noi e perché io e te oggi abbiamo un'intenzionalità condivisa siamo qui a parlare e facciamo questo perché e se io mi fermo tu dici oh ma che cazzo sta a fare infatti ci sono questi esperimenti che mostrano come per i bambini la cosa importante sia poter comprendere che abbiamo un'intenzione condivisa guarda c'è una cosa bellissima che si può provare con i bambini piccoli cioè quello del nascondino dove il nascondino per i bambini all'inizio non è il fatto che io non so dove tu sei ma proprio il fatto che io io e te sappiamo dove io sono e giochiamo che tu praticamente scopri dove io sono ok tu proprio i bambini piccoli il nascondino loro lo rifanno dice lo rifacciamo lo rifacciamo cioè non è il nascondino che intendiamo noi perché il nascondino che intendono loro è proprio il fatto è una scoperta forte dell'intenzionalità condivisa questo ha portato a tanti principi anche pedagogici perché per esempio è più facile chiedere ad un bambino aiuto che non che imporgli di fare qualcosa perché se lo imponi praticamente gli separi i ruoli se invece dici mi aiuti a fare questo poi lo farà lui però se tu gli dici aiutami sono degli esperimenti di uno studente di Tomasello che sono bellissimi dove ci sono dei bambini di 18-20 mesi a stento diciamo fanno il cruising camminano a malapena dove lui per esempio sono accompagnati ovviamente dalla mamma e lui sta diciamo stendendo dei panni con delle mollette gli cade una molletta e lui cerca di raggiungerla così il bambino che questo tizio non l'hanno mai visto si guarda un po' intorno vede che nessuno fa niente e va là prende la molletta e gliela dà oppure lui sta portando dei libri e ha i libri in mano e cerca di metterli dentro un armadio e l'armadio è chiuso e lui va lì e urta e urta e questi bambini vanno lì e gli aprono lo sportello i bambini sono alla ricerca dell'intenzionalità condivisa con gli adulti e nel gioco la cosa che li premia di più è proprio questo fatto che si sa che ci sono questi ruoli e ognuno sa qual è il ruolo dell'altro quindi loro riescono a vedere sia il proprio ruolo che il ruolo dell'altro e sono gratificati da entrambi quello del nascondino secondo me è l'esempio più bello perché noi diciamo giochiamo nascondino e diciamo per noi è tu ti nascondi qua io però non devo sapere invece per il bambino è io mi nascondo qua e tu mi vieni a trovare dove tu sai che io sono perché il nascondino come lo intendiamo noi va nella direzione di un'intenzionalità parzialmente condivisa certo io ti devo trovare ma tu non vuoi farti trovare invece di guarda questa è stata una cosa che io ho fatto con tanti bambini i miei figli i nipotini e quant'altro ed è veramente un'evidenza molto forte di questa esigenza che noi abbiamo dell'intenzionalità condivisa che manteniamo solo che e poi ovviamente noi abbiamo entrambe le intenzionalità abbiamo intenzionalità individuale dell'io egoistica che purtroppo a volte molte volte prende il sopravvento anzi diciamo in questi tempi cioè no diciamo che la storia è nel meglio non parlare ma infatti questa cosa dell'intenzionalità condivisa poi adesso non so veramente riavvieremo cioè mi fa venire in mente la cosa la democrazia cioè nel senso è diverso se uno mi dice fai questo oppure se insieme ci mettiamo d'accordo per fare qualcosa di condiviso è proprio quello diciamo noi se tu pensi forse il fenomeno più importante no importante no però tra i fenomeni più importanti della comunicazione digitale è il fenomeno dell'open source il fenomeno della condivisione che tanta gente collabora senza pure sapere chi sono gli altri per mantenere un prodotto un servizio ed è stato il grande successo di internet altrimenti internet non avrebbe avuto questo successo se non ci fosse stato linux l'open source oggi tutti quanti i server di internet sono basati su quel sistema operativo aperto altrimenti e questo ha segnato il fallimento appunto di non so se ti ricordi microsoft nt doveva essere le macchine di microsoft per i server per internet sia microsoft che altri hanno cercato di fare le loro reti chiuse invece per fortuna attraverso l'open source c'è stata effettivamente internet poi ovviamente adesso ci sono tanti modi per poterlo controllare però ancora perché poi quello che contano sono gli strumenti che girano sì 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 certo infatti l'open source è bellissimo proprio come come concetto e poi soprattutto perché funziona cioè e in qualche modo spero che si possa applicare questo concetto anche a non so alla politica cioè penso c'è il covid c'è la crisi economica c'è qualsiasi cosa tutte le eventi che hanno voglia di partecipare possono dare suggerimenti penso una wikipedia magari un po' più decente perché anche quella dei problemi e no sto dicendo anche dei processi non so democratici o qualche modo risolvere i problemi dell'umanità in maniera cooperativa ma sai conosci Jeremy Rifkin questo teorico che lui ha scritto la società a costo marginale zero appunto è un testo del 2014 credo che proponeva di prendere come esempio quello che stava accadendo nel mondo della comunicazione digitale per poterlo estendere in vari ambiti compresi quelli politici economici e non è facilissimo diciamo non è non è facilissimo soprattutto adesso che abbiamo queste di fatto concentrazioni di potere nei servizi di cittino cioè i grandi player hanno acquisito dei vantaggi parlo di di google microsoft apple amazon hanno dei vantaggi ai quali difficilmente vorranno rinunciare non so se ha visto per esempio no c'è stato questi ricercatori che hanno detto attenzione l'intelligenza artificiale di google è diventata senziente lambda hai sentito sì sì ho sentito poi non ho indagato più di tanto ora a prescindere se si è diventata senziente o no non è possibile dirlo perché ancora diciamo non c'è nessuna teoria sulla natura della coscienza umana cioè non c'è una teoria scientifica nessuno finora è riuscito a formularne una che possa permettere una indagine empirica fare delle previsioni e poter avere eventualmente delle falsificazioni quindi non c'è una teoria della coscienza quindi è difficile dire se una macchina può essere senziente o meno però come ha detto Kai che era l'amministratore dell'edagato di google diciamo dialogando con lambda si scopre di più sulla natura umana che sulla natura della di questo agente artificiale cioè della nostra fortissima tendenza all'antropomorfizzazione cioè noi proiettiamo no abbiamo proiettato abbiamo animato tutto e adesso abbiamo quest'ultimo stadio di animismo rivolto a queste macchine che anche se riescono a dialogare perfettamente con noi però non hanno una diciamo un attributo fondamentale che alla base della della coscienza cioè il dolore l'attributo principale della coscienza a qualunque livello infatti è uno degli indicatori in questi tentativi di formulare una teoria della coscienza umana di dove appare la coscienza lungo la scala lungo la scala non chiamiamola scala diciamo lungo il processo filogenetico ok ma come mai il dolore non e non anche magari il piacere cioè no no il piacere e il dolore sono i due laghi negativo ok ok il dolore è più forse è più tangibile sì sì esatto te lo accorgi di più però la tua situazione è assolutamente corretta è come se fosse diciamo il controaltare il dolore il piacere e invece tipo tornando un attimo indietro a quello che dicevamo prima degli animali poi ritornando poi ritorniamo sul presente su questo futuro quasi ma invece tipo le formiche e le api sono alieni cioè nel senso sono diversissimi da hanno hanno semplicemente sì ma no hanno semplicemente delle trame motorie preformate che sono codificate nel nel loro DNA tant'è vero che loro ripetono costantemente il loro gesto anche se noi cerchiamo di ostacolarle no per esempio ci sono questi esperimenti molto come dire drammatici anche no nella distruzione del nido delle vespe o del nido delle api e loro continuano incessantemente fino a che non si sfiniscono e muoiono nel tentativo di costruire quella cosa loro hanno delle trame motorie appunto preformate che vengono trasmesse da generazione a generazione con alcune piccole variazioni dipende tutto quanto il resto però il loro modo di comportarsi è cooperativo ma stereotipato ok non presentano la capacità di adattamento tanto meno è quella di gruppo si sembra quasi gli sciami muoiono perché ammazzano la regina e poi dopo tutti quanti sembra quasi una sorta di dittatura a volte cioè quando uno pensa non so si si perché sono delle una swarm intelligence diciamo codificata e non adattiva codificata in maniera molto rigida quindi qualsiasi cambiamento li mette in difficoltà cioè non qualsiasi cambiamento che non sia già previsto diciamo in qualche modo non hanno comportamenti adattivi i comportamenti adattivi sono uno degli indicatori appunto dell'intelligenza e lo stesso vale per i comportamenti di gruppo devi avere comportamenti adattivi di gruppo che sono la cosa più difficile da trovare nelle altre specie tu puoi trovare nelle altre specie per esempio anche gesti creativi capacità di risolvere problemi individuali però non trovi la capacità di costruire su queste invenzioni non troverai mai uno scimpanzee che si porta dietro il sasso con cui è riuscito a rompere le noci di cocco o che gli è servito per poter catturare una preda nessuno di loro costruisce un bastone che si porta dietro e raffina per i diversi fini come possono essere quelli di andare a mangiare le termiti e quindi averne uno preciso se lo costruisco di volta in volta via ma non c'è un processo di cultura accumulativa ok quindi è come se avessero vivessero presente e basta sì precisamente non hanno storia è proprio questo la storia è una peculiarità per ora umana per uno scimpanzee per una tigre nascere nel 1200 nel 1500 nel 5000 a meno che non siano cambiate drammaticamente le condizioni geografiche di quel luogo è assolutamente indifferente per noi nascere nel 3000 avanti Cristo nel 1000 nel 2000 dopo Cristo significa essere degli esseri completamente diversi con delle aspettative diverse con dei motivi per cui essere contenti soffrire gioire vivere sono profondamente diversi avevo letto tipo un libro che si chiama La Casa Rossa di questo sportivo che si era trasferito in Bruellandia forse qualcosa del genere e raccontava adesso l'ho letto tanti anni fa quindi magari sbaglio qualcosa raccontava che in pratica dato che avevano proibito non so la caccia alla foca perché perché c'era un poche foche Greenpeace però era una cosa che loro facevano da tantissimo tempo e appunto avevano proibito questa caccia e le avevano dato appunto per il sostentamento le avevano dato una sorta di reddito di cittadinanza o qualcosa del genere e loro spendevano però tutto in pochissimi giorni e l'autore del libro diceva perché non avevano la concezione del futuro quasi perché erano sempre abituati a vivere così con a cacciare la mattina la foca e mangiarsela la sera o magari non lo so anche conservarle in qualche modo anche se col ghiaccio è semplice e niente mi aveva fatto venire in mente questo quindi mi chiedevo tra gli umani c'è questa concezione del del pensare al futuro ci abbiamo delle tracce diciamo sì questo è un tema veramente affascinante tutti il tempo il tempo è un artefatto e quindi ogni cultura ha creato il proprio strumento per rappresentare per vivere il tempo e quindi effettivamente anche come si può dire il concetto di futuro è strettamente legato a quelle che sono state le pratiche sociali di quella particolare cultura noi pensiamo noi pensiamo al futuro e lo pensiamo anche in termini di decine centinaia a volte migliaia di anni perché abbiamo una storia culturale che ci prepara a questo e abbiamo anche bene o male una modalità di organizzare le narrazioni in modo tale da renderle come dire il termine non è compatibile ma le nostre strutture narrative lo permettono diciamo per esempio le nostre strutture narrative invece non ci permettono di poter rappresentare un continuo spazio temporale le quattro dimensioni di Einstein perché anche se queste diciamo a tutti gli effetti dovrebbero essere assolutamente vere reali no? le formazioni dello spazio tempo sarà dimostrata il GPS funziona in questa maniera noi però non la non la percepiamo e non è soltanto una questione diciamo sensoriale è proprio una questione concettuale di come costruiamo la realtà perché noi siamo dei grandi ogni specie è un costruttore di realtà e noi siamo fra le specie come dire con la maggiore capacità di costruzione di realtà tanto che diverse culture possono crearsi delle realtà molto molto diverse fra di loro a partire da quelli che potevano essere considerate le primitive come lo spazio e il tempo e quindi ogni cultura ha le sue come dire narrative sul tempo e sullo spazio e dove e che cosa sono quindi immagino benissimo che per loro magari già fra dieci giorni poteva essere bu se sei un tempo molto eh sì ma per esempio ci sono questi lavori di Jared Diamond no? Armi, metalli e malattie su le proprio le popolazioni della Papa Nuova Guinea no? dove bellissimo perché il libro inizia proprio con questa lui scrive questo libro perché ci sta questo sapiente insomma un referente culturale chiamiamolo di quelle popolazioni che gli pone questa domanda ma perché voi avete tanto cargo e noi niente? cioè perché voi avete tutti questi strumenti le perline di turno tutti questi oggetti e noi non li abbiamo mai creati no? e lui inizia a cerca nel suo libro Armi, metalli e malattie cerca di di vedere come si sono evolute le diverse culture e come hanno creato degli strumenti concettuali a volte profondamente diversi che hanno portato a volte a situazioni come anche culture matrilineari che noi non abbiamo dove noi in tutta la nostra cultura occidentale è patrilineare invece lì hanno generato anche delle culture matrilineari dove sono le donne a generare le diciamo le discendenze organizzare le società e via dicendo e questa diversità culturale non la stiamo perdendo ecco questa è un'altra cosa che mi ricordo mi colpì quando ero studente di questo approccio storico-culturale perché già a suo tempo Luria in un suo saggio diceva e stiamo parlando degli anni settanta che una delle diciamo dei grandi mezzi con cui potevamo comprendere il cervello umano era attraverso le diversità culturali lui fece uno studio bellissimo storia sociale dei processi cognitivi scrive questo libro dove va nell'Uzbekistan che era stato appena annesso all'Unione Sovietica e dove la gran parte della popolazione non era alfabetizzata e per loro per esempio il ragionamento sillogistico non esisteva per esempio uno dice Peter è andato in Siberia molto a nord e lì in Siberia tutti gli orsi sono bianchi e ha visto un orso di che colore è questo orso e lo devi chiedere a Peter che lo chiedi a me ma tutti lì tutti gli orsi sono bianchi e l'ho capito ma bisogna vedere lui che orso ha visto che a noi sembra stupida come risposto però direi che non è stupida no non è stupida perché noi l'abbiamo ripetuto anche per esempio nelle contrade di Siena appena arrivata a Siena facemmo uno studio proprio sui ragionamenti sillogistici negli anziani delle contrade e ragionavano come gli uzbeghi praticamente cioè il sillogismo non c'è stava per niente perché alla fine è una logica differente noi abbiamo la nostra precisamente infatti è la logica formale non è un artefatto cognitivo così come la classificazione perché lui gli dava per esempio quattro oggetti che erano una zappa una sega un'ascia e un ciocco di legno e diceva e quale di questi oggetti secondo te non sta bene e questi dicevano la zappa dice perché la zappa è perché con con l'ascia posso abbattere l'albero con la sega poi lo riduco a pezzetti e la zappa che ci faccio? uno si aspettava che uno dicesse questi tre sono utensili e questo invece è il materiale su cui viene esercitata la forza trasformatrice dell'utensile e invece no loro non avevano assolutamente questa concezione avevano una concezione diciamo è una classificazione operativa legata alla pragmatica delle loro azioni e quindi lui diceva per tornare al discorso della diversità culturale la diversità culturale doveva essere proprio uno degli strumenti che dovevano permettere di poter indagare sulla storia evolutiva dei nostri processi e che la più grande danno che noi potevamo creare al nostro cervello è quello di appiattirci tutti su un'unica cultura su un'unica organizzazione della vita un unico modo di pensare e un unico modo di creare la realtà perché questo poi alla fine è quello di cui si parla cioè come creiamo la realtà che non è soltanto però questo è bellissimo perché la creazione della realtà noi ce l'abbiamo nella fisica nella chimica nella biologia e poi ce l'abbiamo anche nella vita quotidiana nel in tutti gli artefatti che costituiamo quelli istituzionali le nazioni il denaro l'università le società per azioni sì 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 infatti cioè io immagino che il problema qui sia la globalizzazione tutti quanti che viviamo più o meno nello stesso modo nello stesso modo e che era c'è un po' il motivo per cui anche mi interessava la storia perché in qualche modo aiuta a destrutturare la realtà dire ok io non so mangio con la forchetta ma cioè da quando cioè quante persone prima hanno mangiato senza forchetta o magari hanno fatto altre cose in maniera diversa e adesso è ancora forse più urgente che in passato chiederselo perché sta cambiando tutto cioè è già cambiato tutto forse 70 anni fa non so penso sì noi abbiamo avuto una forte accelerazione ci sta questa chiamata la McCready explosion cioè il fatto che noi dagli anni 60 ad oggi quindi in poco più di 60 anni abbiamo modificato la terra più di quanto abbiamo fatto nei precedenti 10.000 anni ed è un trend che va ad accentuarsi e questo è veramente preoccupante cioè perché sono trasformazioni poi tra l'altro che sono tutte della stessa direzione cioè vanno verso questa omologazione della della realtà e a volte ci sono poi delle spaccature però sono più cioè non so penso le spaccature sociali che anche in questi due anni ne abbiamo ne abbiamo visto alcune in cui magari però anche in passato non so penso fascisti la resistenza che poi magari famiglie che non si parlano però sempre all'interno degli stessi schemi forse eh sì cioè sì questa diciamo uno dei grandi poteri del capitalismo consumismo la sua capacità di assimilare i fenomeni e diciamo appropriarsene per farli diventare oggetti di mercato che era mi viene in mente il discorso anche e e e maglietti dice che va no pensavo è il libro di Harari che appunto diceva i soldi per cui sì magari con te non ci parlo perché la pensavo diversamente però gli affari sono affari preciso infatti è la forza di questo sistema che è l'unico che è rimasto attualmente come modello capitalistico consumistico perché tra l'altro ha avuto un grande pregio ha avuto il pregio di cambiare le regole del gioco a riguardo di quella che poteva essere la ricchezza percepita immediata fino a che non entra l'idea della diciamo del consumo quindi proprio dell'obsolescenza programmata quella di non far durare le cose di fatto noi abbiamo vissuto sempre in un contesto in cui diciamo i rapporti di forza di lavoro di potere erano a somma zero cioè se io dovevo prendere qualche cosa la dovevo togliere a qualcun altro ok la terra era quella che ci dava la ricchezza e quindi più terra avevo io più potevo essere ricco e lo dovevo togliere a qualcun altro e quindi le guerre i conflitti si facevano per la terra poi i mezzi di produzione con la rivoluzione industriale chi ha i mezzi di produzione può permettersi di creare una differenza a prescindere dalla quantità di terra che ha ok perché la trasformazione dei materiali diventa più importante del materiale stesso e poi adesso diciamo con le tecnologie digitali bene o male diciamo i dati il fatto di poterli potenere quelli sono la ricchezza però questa roba qua nella tecnologia digitale hanno vissuto totalmente la come dire l'influenza del capitalismo consumista che ha creato la diciamo l'economia invece non a costo zero ma a valore aggiunto cioè dal rapporto si creava una situazione in cui anche quello a cui diciamo la parte debole aveva un piccolo guadagno non era grande come quello della diciamo della parte ricca della parte dominante però non viveva la situazione come una perdita ma la viveva come un piccolo guadagno certo e diciamo tutti zoom noi ce li danno gratis pensiamo che stiamo avendo un piccolo guadagno e loro ne stanno avendo un altro un pochettino anzi decisamente più grande perché prima che noi riusciamo a smontarli dal loro ruolo e così ha funzionato diciamo dagli anni 60 in poi del consumismo nasce da questo con la carota davanti praticamente con la carota davanti sì sì io mi prendo quel poco però intanto io portavo avanti il carretto sì 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 ma infatti è incredibile ogni tanto appunto rifletto su cioè youtube che non so ti offre spazio infinito per video e tutto quanto che in realtà se uno va a considerare lo spazio perché appunto vado a vedermi i server quanto costa lo spazio e tutto quanto dici cavolo ma mi stanno regalando tanto mi stanno regalando proprio i soldi rifletto su quanto valgono appunto quei dati e allora devi pensare che per esempio se noi oggi abbiamo queste soluzioni per il deep learning abbiamo perché google ha potuto contare su youtube la prima modelli di apprendimento profondo l'ha fatti proprio cercando di generare questa rete che discriminava i cani dai gatti nei video di youtube perché avevano questa quantità enorme di dati e oggi si è sempre spostato in avanti la sticella per cui questi dati vengono utilizzati sempre in maniera più diciamo sofisticata pensa a processi di riconoscimento del linguaggio quanto sono affidabili oggi cioè è incredibile anche in una situazione rumorosa ma perché noi affidiamo costantemente i nostri dati ma per esempio questo ha stravolto tutta la psicologia sociale sai prima c'era bisogno di andare a fare questionari indagini sulle preferenze sulle cose oggi società tipo appunto google facebook questi esperimenti sociali li fanno direttamente osservando il comportamento delle persone tantissimi psicologi sociali lavorano per queste società diciamo Cambridge Analytica è stata un esempio eclatante perché quello che ha scritto l'algoritmo per poter fare la profilazione degli utenti con Otto Like era un social scientist svedese che lavorava in California e poi era andato a lavorare a Cambridge Analytica e lui addirittura scrive questo articolo che lo pubblica molto prima che scoppi tutto quanto il casino su Trump o la Brexit e quant'altro dove adesso non me lo ricordo sinceramente ma praticamente con 50 like lui riusciva a sapere di noi molto più di quanto noi stessi sappiamo di noi di cosa ci piace o di cosa ci può tentare l'avevo letto mi ricordo la tabellina con tutti quanti che appunto con Tot Like ti conosco come se avessi parlato un'ora con te 50 una giornata la cosa interessante che poi diceva a una certa ti conosco come se fossi appunto tua madre e poi ti conosco meglio di te stesso meglio di te stesso è proprio quello che è quello che dice Arari nel suo uno dei suoi più famosi lui dice oggi non c'è confronto rispetto a quello che poteva sapere la polizia segreta la CIA su di noi spiandoci ascoltando le cose perché questi algoritmi riescono a sapere di noi molto più cose di quanto noi stessi sappiamo di noi ci sono esempi lui fa il suo esempio Arari è omosessuale ma lui lo scopre a 21 anni oggi degli algoritmi te lo possono anticipare quando tu sei ancora adolescente che hai delle tendenze omosessuali quando tu ancora non lo sai e lui infatti fa questi talk fantastici che sono inquietanti per carità però sono veramente ecco la cosa che io apprezzo soprattutto di Arari è il fatto che lui cerca di promuovere moltissimo un'azione sociale dicendo guardate questi sono i temi a cui la politica dovrebbe prestare attenzione non se vengono rieletti o non vengono rieletti ma cosa c'è nell'agenda di questi politici quando noi stiamo vivendo una trasformazione così drammatica nella nostra società che molto probabilmente ci porterà a essere tra le ultime generazioni di specie di sapiens e cosa c'è nell'agenda di questi noi questo dovremmo chiedere ai politici che si candidano a governarci cosa c'hanno nell'agenda e se ci sono questi temi e cosa pensano di fare perché non si può lasciare alla sensibilità dei vari Sergi Breen Mark Zuckerberg o Jeff Bezos o ancora peggio il governo cinese che racchiude il peggio del capitalismo del per farciò ci vorrebbe proprio una coscienza nelle persone per fare la domanda al politico senti cosa ci vorrebbe anzitutto allora lui sta facendo questa azione molto bella è veramente un genio secondo me Harari è veramente lui fa tutta questa meditazione che gli permette lui sta producendo questi come si chiamano fumetti comic book dove il suo libro Sapiens e anche Homo Deus vengono infatti racchiusi in una serie di volumi e sono rivolti soprattutto ai ragazzi ai ragazzi dai 8-10 anni in su perché questa è la generazione che dovrebbe essere sensibilizzata questa è la generazione gli adolescenti di adesso che sono abbandonati completamente a questi che sono i social media per poter creare la propria coscienza sociale noi avevamo la musica no i cantautori che ci davano un po' ecco un attimo c'è mia moglie ma non posso la sopprimo Angela sono in riunione metti metti la fianco e poi la sposto ciao no niente ciao insomma ancora io non ho oh madonna non ho parole cioè devono aver cambiato qualcosa nelle poli ma è già passato un'ora no vabbè adesso continuiamo e quindi lui si rivolge ai ragazzi perché pensa che sia la generazione che deve essere veramente sensibilizzata per porsi queste domande perché oggi abbiamo delle generazioni che sono totalmente che hanno una coscienza sociale che è costruita sui social network ed è pericolosissimo come anche non so se hai visto The Social Dilemma il documentario su Netflix no quello non l'ho visto però ho sentito parlare poi erano temi diciamo che in qualche modo mi interessano però sì sono assolutamente d'accordo che dovrebbero cioè uno per usare uno strumento dovrebbe anche conoscere come è fatto quello strumento quindi social network cos'è? è uno spazio pubblico è uno spazio privato è c'è un'autorità nel senso è centralizzato è decentralizzato e tra l'altro riflettevo cioè su su quello che dicevamo prima appunto sulla sulla l'oggetto fisico come è che l'hai definito? la natura duale degli artefatti esatto esatto che nel senso a creare un altro social network non ci vuole nulla nel senso anzi ci sono penso Mastodon quelli decentralizzati open source e tutto quanto però manca le persone perché perché non c'è non so come dire è come se il simbolo della socialità è facebook per dire non l'altro no infatti è così e poi tra l'altro ha visto anche facebook adesso già per le persone un po' più grandi perché i ragazzetti più piccini hanno tiktok o al massimo instagram instagram è quello più come dire trasversale rispetto all'età però è difficile che i ragazzini di 13 anni oggi vadano su facebook a precedere c'è anche un limite però sono presenti invece su tiktok o e l'altro usano poi tutti adesso whatsapp sta diventando anche sempre più intrigante perché permette di avere le stesse funzionalità che aveva snapchat cioè i messaggi si autodistruggono quindi puoi mandare anche delle cose provocanti che non lasciano traccia e sì e non si tratta di conoscerli solo diciamo da un punto di vista tecnico ma bisogna conoscere da un punto di vista concettuale no? delle sue affordance cognitive cioè quali sono le opportunità d'azione che mi offrono e quali sono i tipi di relazioni che mi permettono di vivere e su questo non c'è nessuno che è preparato cioè nessuno che è preparato nel senso che alla scuola non c'è la competenza per poter dire adesso ragazzi lì ci dovrebbe essere un'operazione di ammissione di ignoranza da parte dell'istituzione dire noi non lo sappiamo cioè però facciamo una cosa impariamolo insieme no? infatti se tu vedi poi i docenti che riescono a fare meglio di più su questa sono tu e qua e quelli che si mettono in gioco nel senso che cercano di imparare insieme con i ragazzi che cos'è fanno un po' da coach da mediatori più che da vi dico io come funziona perché non lo sanno e poi su questa roba qua veramente c'è veramente sono strumenti in continua trasformazione gli stessi laboratori di facebook di twitter sono delle fucine continue di sperimentazione e innovazione per cercare sempre di più di poter e catturare la nostra attenzione perché quella è la moneta la nostra attenzione no? e come io riesco a facilitare i gesti la facilità d'uso è diventato il modo migliore per poter convincere le persone a fare una cosa lo scrolling dei post no? non smetto più perché è facile e lui parte da solo non devo partire niente come entra in scena parla sì adesso gli hanno tolto l'audio però intanto si muove e quindi cattura la mia visione cioè la facilità è diventato proprio il tool per poter convincere cioè la persuasione passa attraverso la facilità più è facile e io lo faccio infatti anche la lettura sta perdendo un po' piede rispetto magari al video che è molto più immediato però ecco sono tutti sono tutti problemi che secondo me li vede chi ha magari una sensibilità di tipo più umanistico sì sì e invece l'ingegneria è esatto che però sono quelli che conoscono i mezzi che di solito sanno cosa un server si è centralizzato sanno cos'è l'open source magari se vai in queste società hanno dei team multidisciplinari dove loro si confrontano noi purtroppo viviamo ancora questa grande separazione fra le materie umanistiche e quelle tecniche la terza cultura da noi ancora non esiste e la cosa è ancora peggiorata dall'establishment accademico che ha consolidato questo stato delle cose per cui o sei sul lato umanistico o sei su quello tecnologico art science o soft science ed è una follia è un un danno che stiamo facendo al nostro futuro perché manca la capacità di poter vedere i fenomeni nella loro globalità certo sì sì ma infatti io adesso storia ma tu pensa allora dico soltanto una cosa ma tu pensa questa mi fa una cosa io l'ho scritto per fortuna nel mio libro perché è una cosa che proprio l'ho scritto il libro quasi per poter raccontare questa storia internet non nasce dalla guerra cioè sì quello è il contesto che permette a questo psicologo di poter concepire di poter dare no concepire di poter mettere in atto la sua idea di una rete intergalattica di vedere i computer come strumenti per la comunicazione Joseph Likely leader era uno psicologo che aveva concepito già da subito lui cambia la natura del computer perché i computer erano strumenti di calcolo e lui fa diventare invece strumenti per la rappresentazione dei modelli mentali questa è già guarda nessuno la sa questa storia perché è incredibile è raccontata benissimo da in un libro che si intitola oddio adesso non me lo ricordo come si intitola il libro comunque io la riracconto nel mio libro perché veramente vale la pena riconoscere che oggi se abbiamo un computer come quello che stiamo utilizzando è perché ci sono state delle persone che hanno visto come un artefatto cognitivo che avrebbe modificato il nostro modo di pensare e ragionare e Joseph Carlich leader è stato uno di questi c'è una diciamo un passaggio di consegne fra Vannevar Bush Lick Leader Doug Engelbart e Alan Kay queste persone sono tutte state ispirate da diciamo principi profondamente legati alla cognizione umana e hanno visto questi strumenti come strumenti per aumentare la capacità cognitiva umana tutti i nomi da approfondire credo ma adesso non voglio fare pubblicità no 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 sì sì però sono tutti no sono argomenti che mi interessano molto in realtà che stavano dicendo della e della separazione fra materie umanistiche e quelle tecnologiche che è una è una cosa costruita quasi ad hoc alla fine dell'ottocento ma che non sta né in cielo né in terra ed è purtroppo un danno gravissimo negli altri paesi si cerca di superarlo noi invece lo stiamo consolidando sì perché a me viene in mente delle scuole superiori sì 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 è vero è vero perché storicamente cioè le materie tecniche spesso sono state utili per fare la guerra cioè penso mi ricordo appunto Napoleone che dice via al latino via tutte ste materie così da da nobili quasi ci servono ingegneri ci servono persone che studiano cannoni che facciano l'elettricità l'era affascinato anche se poi non l'ha quasi vista e adesso sì questi due secoli ci siamo sempre di più spostati verso c'è anche anche la natura forse duale cioè sto pensando appunto tra la cioè tra come noi concepiamo cioè adesso c'è magari cosa fai eh l'ingegnere è diverso l'ho studiato filosofia sì sì mentre invece in passato era il contrario ma tu pensa d'altro canto da prima ancora adesso diciamo il titolo di istruzione superiore nei paesi anglosassoni è PhD philosophy of doctor perché di fatto era la filosofia naturale la fisica le scienze naturali era la filosofia naturale e noi invece iniziamo a separarle in una maniera incredibile che non si rispecchia assolutamente poi nei profili delle persone che hanno fatto la storia nella scienza perché se uno guarda il vissuto di tutte queste persone vede come i temi che affrontavano il modo in cui lo affrontavano vedeva la componente chiamiamola umanistica e quella tecnica ma tra l'altro è proprio già sbagliato quando noi diciamo che esiste una componente tecnica e una umanistica perché questo mi riporta a De Notaris quando diciamo ma queste leggi le ha create l'uomo o sono nella natura la matematica prendiamo la cosa che diciamo è più tecnica di tutta la matematica beh c'è tutta la filosofia della matematica cioè i grandi che si occupano di matematica si pongono proprio questo problema se la matematica adesso c'è è un documentario molto bello della BBC il magnifico mondo dei numeri che ne traccia un pochettino la storia e di come appunto ci sono questi intrecci incredibili fra le forme di pensiero che sono state generate in vari domini e le diversi progressi della matematica c'è una famosa frase di un neurofisiologo che tra l'altro è una delle due persone che ha contribuito all'ideazione del concetto di rete neurale creano il primo neurone artificiale Mackellogg e Pitts e Mackellogg che era un neurofisiologo scrisse questa fase che cos'è il numero che l'uomo lo può comprendere e che cos'è l'uomo che può comprendere il numero e ancora oggi nessuno sa dare una risposta se effettivamente i numeri la matematica siano una nostra invenzione oppure se siano una scoperta di certo non possono essere soltanto una scoperta perché noi abbiamo creato a volte in maniera assolutamente out of the blue dei concetti tipo i numeri immaginari che però poi si sono rivelati assolutamente utilissimi per poter affrontare alcune tematiche come quelle della fisica quantistica che senza quel tipo di struttura concettuale non avrebbe potuto essere rappresentata quindi ci troviamo davvero in un mistero enorme dove se uno non riesce a vederlo e soprattutto apporsi oggi c'è per esempio una cosa terribile nell'insegnamento sia della matematica ma anche della fisica e che diciamo i risultati che sono stati perseguiti in queste discipline vengono presentati to cure no? le leggi della fisica oppure la trigonometria oppure il calcolo infinitesimale o il calcolo integrale ecco è una follia presentarli così come delle cose a sé stanti perché quelle hanno seguito un percorso diciamo concettuale dettato da come dire li chiamerei proprio tormenti di pensiero di ragionamento di di situazioni tra il filosofico e il materiale che ne hanno poi dato sono sfociate poi in queste soluzioni se noi non permettiamo ai ragazzi di poter ripercorrere quel percorso li vediamo come delle cose completamente separate da tutte quante le vicissitudini umani certo e non parlo soltanto del vissuto delle persone ma se tu pensi alla trigonometria come nasce o anche come il calcolo infinitesimale e ci sono per esempio ci sono dei allora i matematici i fisici sono perfettamente coscienti di questo ci ci sta Strogatz che non è una paraccia ma è un matematico che ha scritto due libri bellissimi uno è sull'incognite quindi sull'algebra e tutto il percorso dell'algebra tutte le vicissitudini umane che praticamente ti rendono comprensibile il perché dell'algebra e anche degli strumenti che sono usciti fuori e che vengono utilizzati oggi e l'altro il potere dell'infinito che ha a che fare con il calcolo infinitesimale ma inizia già con i paradossi di Zenone su Achille la tartaruga e quindi come mai diciamo il potere dell'incognito la x e il potere dell'infinito ci hanno dato degli strumenti così formidabili come l'algebra e il calcolo infinitesimale e quindi il tema dell'incognito che cos'è non noto e il tema di cos'è infinito sono veramente il cuore di questi due strumenti matematici solo che nessuno alla scuola sa sto cazzo di cosa sì 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 no sto pensando sì no ma è sarebbe molto più affascinante studiare ma certo perché anzitutto li metteresti devi farli percorrere ma questo era un principio che di cui parlava proprio la scuola scuola di cultura e sovietica Luria bisognerebbe nel percorso educativo delle nuove generazioni far ripercorrere il percorso storico che ha portato la cultura ad acquisire quegli strumenti perché così diventano accessibili perché tu metti lo studente nelle stesse condizioni in cui si trovava l'umanità intera a quel tempo quando ancora quello strumento non esisteva cazzo e così glielo rendi accessibile perché tutto il mondo a quel tempo non aveva quel strumento non glielo puoi dare direttamente è come se gli metti un mitro a mano a uno o un computer dice programma ma che cazzo dici mi vuoi spiegare come funziona sta cosa perché esiste ma è vero è come mettere un mitro in mano perché se uno insegni la fisica e poi ti crea la bomba nucleare preciso è così ti insegno a sparare senza capire niente perché esiste un'arma da fuoco ma ancora peggio perché veramente questi strumenti poi ti portano a delle separazioni per cui dici quello pensa come l'ingegnere cioè credo che pensa come l'ingegnere perché ha vissuto soltanto il prodotto di un percorso culturale che invece è la vera ricchezza che ci ha portato a dare potere all'incognito o all'infinito sono strumenti per fortuna ci sono persone come questa appunto Strogatz è scritto uno che si chiama Il potere dell'infinito e l'altro mi sembra The power of The X qualcosa del genere sono stati entrambi tradotti in italiano da codice edizione comunque basta anche sentire i suoi talk su YouTube i verbi sono veramente belli e sono dei romanzi li raccontano queste vicissitudini intrecciano la storia degli arabi con quelli dei maia con quelle degli europei ogni popolazione che ha cercato di comprendere questi aspetti che cos'è l'ignoto e che cos'è l'infinito che sono temi di filosofia però hanno portato degli strumenti matematici che sono gli strumenti matematici diciamo il calcolo è che non so chi fu che disse è la è la lingua di Dio perché la gran parte delle equazioni sono scritte attraverso il calcolo infinitesimale le equazioni tutto il calcolo differenziale rappresenta lo strumento più potente che noi abbiamo oggi per progettare qualunque tipo di sistema e questo viene da questa da questi percorsi poi dopo ci sono tutti i tecnicismi i vari teoremi e quant'altro però per poter arrivare a quelli e poterli padroneggiare è fondamentale non avere semplicemente la capacità di memorizzare le equazioni diciamo come che cos'è il calcolo infinitesimale come si fa una derivata sì 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 non vederli solamente come cioè spesso a scuola erano dei sudoku quasi da risolvere sì ma peggio pure sì esatto esatto il sudoku è molto più divertente cioè almeno almeno uno è proprio inutile fino a se stesso però ti intriga un pochettino invece lì fino a se stesso fino a se stesso però ti rende appunto anche molto potente come dicevamo spesso queste nozioni equivalgono quasi ad un mitra sì sì e diciamo fa comoda all'interno di questo sistema capitalista e tutto quanto avere anche delle persone sì che sanno fare il sudoku cioè che lo sanno fare bene lo sanno fare bene va bene sì allora questo è un tema difficilissimo io non neppure non saprei neppure come affrontarlo mi affido veramente alle intuizioni di Harari perché lui inizia a parlare un po' di questa classe inutile del fatto che per adesso bene o male c'era bisogno un po' della forza lavoro ma questo sarà sempre meno si potrà creare addirittura una classe inutile che non servirà neppure a chi è in grado di produrre servizi e prodotti questa cosa qui me l'ero persa diceva appunto questa cosa ma lui dice questa cosa della classe inutile che è la minaccia più seria che lui vede quello che può creare proprio una separazione anche più drammatica di quella delle caste indiane ok per cui quindi nel senso mi immagino un futuro prossimo eccola non so quarta rivoluzione industriale come la vogliamo chiamare è già in atto già in atto così cioè inteso la parte l'industria ecco non servirebbe più cioè l'industria verrebbe automatizzata non ci serve più viene automatizzata la presenza dei sistemi robotici ma pure ma non soltanto l'industria ma pensate ad esempio tutte le analisi chimiche oggi ok c'è quasi viene tutto automatizzato analisi del sangue urine e quant'altro è tutto eseguito attraverso processi automatizzati sono algoritmi di apprendimento che gestiscono gli strumenti e poi discono anche i risultati sempre più presente ma entra sempre di più nella chirurgia e tu oggi a volte hai questi dilemmi negli Stati Uniti preferisci farti operare da un robot o da una persona eh bella domanda bella domanda il robot quanto è stato addestrato quanti ne sono morti prima di passare lì per il machine learning per adesso esistono questi diciamo Kasparov l'ha chiamati non mi ricordo adesso insomma sistemi integrati però sono sempre più vicini per esempio abbiamo un po' collaborato su un progetto per poter fare tutta l'analisi assistita delle risonanze magnetiche oppure conosco un progetto molto interessante per dotare gli apparecchi di ecografia di un sistema di riconoscimento delle immagini che è in grado di fare diagnosi mentre si sta facendo diciamo il tracciato si creano le immagini attraverso l'ecografo e guidano anche diciamo i gesti del dottore per andare a esplorare in maniera più puntuale alcune parti per poter avere confermo o meno di un possibile problema quindi in tempo reale il sistema di classificazione ti dice quale può essere l'eventuale problema o meno e ti guida anche nel processo di esplorazione della superficie del corpo che viene indagata attraverso la sonda e questi sono diciamo strumenti interattivi per adesso che però diciamo di fatto rendono anche il lavoro del dottore diciamo meno specializzato in fondo non inizia ad affidarsi un po' come facciamo noi quando ci affidiamo tutti i sistemi automatici sì sì quella è fede fiducia fede e ritorniamo ritorniamo ai vecchi tempi forse in qualche modo eh sì in cui uno cioè in cui c'è nel senso senza la mentalità del dire ma io non l'ho visto cioè non lo so com'è quel cavallo no l'orso di che colore è sì 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 è così è così ci fidiamo in qualche modo è una sorta di sillogismo diciamo l'intelligenza artificiale è intelligente l'intelligenza pensa a questo quindi questo è intelligente in qualche modo sì e in alcuni casi per esempio la usano addirittura nella nei tribunali per poter giudicare dei casi perché si sono rivelati in qualche modo meno soggetti a dei bias rispetto a dei giudici perché i giudici in molti casi possono essere influenzati dal colore della pelle dall'ora del giorno in cui stanno facendo la sentenza sì 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 e quindi dalle emozioni dalle emozioni precisamente quindi è un mondo che diciamo io ho trovato in Arari forse la persona che ha maggiore capacità analitica rispetto alla complessità dei fenomeni che stanno riguardando i processi di innovazione culturale e tecnologica sì perché cioè non è uno storico vecchia scuola solo sui libri negli scantinati si interessa appunto certo lui dice ma lui infatti in un'intervista dice infatti c'è un'intervista molto bella fatta a 60 Minutes dove il servistore dice ma lei è uno storico come fa a parlare del futuro ma dice veramente uno storico si occupa dei processi di cambiamento all'interno delle società ovviamente quelli che sono già venuti ma anche quelli che sono in corso o anche quelli che possono accadere certo perché noi cerchiamo di comprendere quali sono le forze sociali in gioco che hanno spinto verso una direzione o verso un'altra e non raccontiamo più delle volte o cerchiamo di non raccontare semplicemente le vicissitudini dei protagonisti che nella diciamo in una mitologia urbana sono i più noti no? cerchiamo di comprendere i fenomeni sociali che stanno alla base di quello che è accaduto e lo stesso cerca di fare adesso rispetto a quello che sta accadendo infatti anche il suo libro quello 21 lezioni per il ventunesimo secolo che rappresenta appunto i temi che dovrebbero essere nell'agenda della politica ok sì 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 stavo pensando anche alla non so vabbè la mia esperienza la storia e forse c'è troppa attenzione verso non so una concezione storia un po' vecchia un po' un po' passata non so penso in passato magari appunto erano le persone cioè i nobili che sapevano leggere principalmente quindi si interessavano magari a alla storia forse la storia era scritta per loro in qualche modo per i eh sì ma la storia è scritta innanzitutto per chi ha vinto i vincitori hanno scritto dai vivi sicuramente è scritta dai vivi bravo benissimo e quindi che è sopravvissuto che è riuscito a raccontare e l'ha piegata il più delle volte agli interessi del gruppo sociale al quale appartene o per il quale lui aveva un interesse diretto ma infatti queste sono tutte cose che secondo me dovrebbero far parte del processo di formazione della scuola cioè non raccontare la storia come delle cose che è così non dare le formule ma fare fare le domande no? e la cosa più importante è porsi le domande ma non dare delle risposte ma anche poi soprattutto non concepire giustamente come dicevi anche questa separazione tra umanistico materie tecniche è sbagliata a parte che poi pensavo anche la separazione magari tra mente e corpo sì anche quella e poi c'è proprio storia cioè parlo di quella come esempio perché appunto la conosco mi ha dato molto fastidio che fosse cioè fai storia quindi fai anche letteratura e perché non statistica perché non machine learning sì sì ma perché sono associati a questi diciamo contenitori che abbiamo creato perché i dipartimenti sono di storia e filologia o storia e letteratura no? io mi immagino dare lì un'intelligenza artificiale tutte le fonti diarie cioè salterebbero fuori delle cose allucinanti cioè sì sì e invece c'è una c'è una concezione un po' diciamo arretrata e invece un'ultima poi non so ti ho tenuto tantissimo qui a parlare sulle sempre tornando alle alle cripto però le cripto vabbè adesso sono un po' un fenomeno speculativo appunto per per comprarsi quello che non riesce a comprare altrimenti cioè quindi appunto tutte le cose illegali però ci hanno grosse potenzialità cioè penso al concetto di blockchain questa cosa del decentralizzare questa cosa del rendere infinito scusa non infinito immodificabile un qualcosa allora hanno un'enorme potenzialità però devono essere riviste per la sua sostenibilità perché crescono costantemente nella richiesta energetica per poter continuare a erogare il servizio e quindi la tecnologia blockchain che è una tecnologia molto interessante per poter permettere di avere tracciabilità affidabilità cooperazione distribuzione ha però come contrattare quello di avere dei costi energetici decisamente alti perché non scala diciamo in maniera graduale ma logaritmica esplodono tutta quanta e oggi per il mining per il certo precisamente però tu pensi no no semplicemente basta pensare a ogni singola operazione che sembra una cosa banalissima quando la eseguiamo sul nostro strumento client cosa comporta da un punto di vista server e quanto di quello poi si propaga nel tempo certo quindi è una tecnologia che ha dei limiti sul lato della sostenibilità è assolutamente una tecnologia importante e ancora però secondo me acerba molto probabilmente sai quando ci sarà la svolta con la computazione quantistica con la computazione quantistica la blockchain diventerà una cosa assolutamente gestibile e a impatto bassissimo ok e non ci sarebbero sempre gli stessi perché adesso penso il problema delle blockchain appunto che consumano tanta energia sono quelle proof of work quelle tipo bitcoin che cercano l'ash mentre invece i proof of stake non consumano ma fanno schifo perché sono come l'azione in borsa l'azione in borsa sì giusto e invece col quantistico cosa cambierebbe cioè non ci sarebbe sempre bisogno di una cioè perché io pensavo il proof of work in sostanza mi va ad evitare non so di creare dei virtual machine sostanzialmente e quindi effettore un attacco diciamo premetto che quello che sto per dire è una sintesi brutta di una cosa che ho letto quindi non ho una competenza specifica che mi possa permettere di come dire argomentare adeguatamente però e allora il calcolo quantistico lo permetterebbe perché direbbe la blockchain sostenibile perché il fenomeno della sovrapposizione degli stati permetterebbe alla stessa unità fisica di avere un numero infinito di stati e quindi questo diciamo tutte le tutte le operazioni transazioni potrebbero essere racchiuse nella stessa unità a prescindere che ci sono tante cose per cui rendono tu pensa semplicemente questo attualmente ovviamente il calcolo quantistico affronta temi diversi da quelli del calcolo digitale però su questo tema della blockchain per la parte di rappresentare gli stati offre una grande opportunità e lì cioè non è che sarebbe tutto calcolo quantistico ma le memorie della blockchain sarebbero affidate alla componente quantistica e lì il fenomeno della sovrapposizione degli stati permetterebbe di scalare moltissimo e rendere questa tecnologia fluibile approfondirò perché c'ho la tesi di triennale che sarà appunto storie blockchain quindi allora e riguarda questo aspetto della memoria legata alla blockchain ovviamente non è tutto la blockchain che diventa il calcolo perché ripeto il calcolo quantistico serve soprattutto per simulare situazioni legate magari a fenomeni biologici a sistemi complessi e quant'altro però se lo vediamo come una risorsa per poter invece creare delle memorie di cui la blockchain ha tanto bisogno la vediamo come una risorsa che renderà la blockchain molto molto più sostenibile però ripeto questo è l'output di un articolo sì 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 no no grazie mille cioè poi dopo vado a cercarlo perché sto raccogliendo informazioni sì se tu scrivi blockchain e calcolo quantistico secondo me lo becchi sì sì no ma avevo visto qualcosa che appunto dicevano nel momento in cui c'è dovesse esserci il calcolo quantistico le blockchain sono cioè da chiave allora sono pubblicatoria indietro a chiave private quindi sì ma quello sul lato dell'hackeraggio esatto esatto va bene però come si allora così come diciamo il calcolo quantistico lo può servire può servire per hackerare può servire anche per creare delle chiavi più complesse più complesse su questo poi non ne so niente veramente però ovviamente diciamo se tu mantieni la blockchain così com'è e usi il calcolo quantistico per hackerarlo c'hai la possibilità di poterlo rapido proprio perché ha questa capacità di poter rappresentare un'infinità di stati contemporaneamente quindi esplorare uno spazio del possibile quasi infinito in tempi diciamo ragionisti però quando poi tu inizi a pensare a come utilizzare il calcolo quantistico per poterlo far diventare una risorsa per creare le chiavi allora è diverso certo certo ti va su questo però veramente non so niente niente sì sì ma anche io ho letto questa cosa che dicevano che chiaro andrebbe a rompere le chiavi attuali perché sono però però ne può creare appunto però può creare delle altre può avere un ruolo diverso e questo del calcolo quantistico è sicuramente uno delle delle risorse che può cambiare le carte in tavola nel futuro anche scombinare diciamo i rapporti di forza che si sono creati ovviamente i grandi player sono tutti impegnati sul calcolo quantistico però siccome ancora è una situazione molto molto fluida la loro arma è quella che poi se trovano qualcosa di interessante la possono acquisire la loro grande forza è proprio quella tanto è vero che moltissimi start-upper hanno come obiettivo quello di farsi acquisire da Google da Amazon da qualunque diventare l'ambizione più grande che hanno è quella è diventato quasi un obiettivo negli Stati Uniti è veramente un obiettivo quello sì sì è successo è successo con il sogno americano è diventato farsi acquisire faccio un'impresa non per andare avanti con le mie forze in eterno ma per farmi acquisire non tutti la pensano così però è una sì sì però è vero non c'è mai cioè spesso uno si mette in proprio perché dice no io non voglio avere qualcun altro che mi dica cosa devo fare vabbè adesso finiamo e invece sì però in questo caso sono sono creato magari proprio con l'obiettivo puoi far parte qualcosa di più grande sì anche perché ti offrono ma ti offrono una quantità di soldi inimmaginabile certo certo perché decine decine di milioni perché a posto in gioco altissimo c'è il mondo c'è il potere del mondo quasi se uno pensa al calcolo quantistico e così e invece un'ultimissima domanda così sulla molto molto diversa da secondo te qual è il senso della vita 42 42 ma allora per come siamo fatti il senso della vita è quello diciamo di gioire il più possibile del presente anche se siamo diciamo culturalmente spinti a pensare di condividere questo presente con un futuro lontano se tu pensi questo è stato studiato un po' le popolazioni che sono più felici sono quelle che hanno un time span stretto perché riescono a vivere di più il presente e noi abbiamo le pressioni del futuro e le pressioni anche a volte del passato le impianti del passato e le provocazioni del futuro che non ci permettono di vivere il presente noi viviamo meglio quando siamo nel presente e il senso della vita è evolutivamente se noi viviamo questo presente prendi il dialogo quando ci mettiamo a chiacchierare e ci sta solo il presente siamo uno fa l'amore o è coinvolto gioca a tennis o gioca a pallone il presente il flow il flow da gratificazione ora non voglio dire che la gratificazione è il senso della vita però è quello che in qualche modo ci dà come dire il reward più importante il reward principale e se facciamo quello poi se volete c'è la frase bellissima di diciamo di Ulisse nell'immaginario di Dante che dice fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza quindi per me il senso della vita è quello di porne sempre domande cercare di conoscere sempre di più grazie che che in parte però è anche quello che ci che ci rende infelici forse cioè quello che dicevamo appunto la preoccupazione del futuro allora però no nella ricerca nel tentativo di conoscere no perché è bello no tentare di conoscere imparare costantemente certo più conosci come si sa no più siamo coscienti la tegnioranza come si dice è una bella sfida quindi quello deve occuparci però l'atto stesso di venire a conoscere ad esempio adoro Barbascura ok lo conosci è questo youtuber narratore che racconta brutta scienza sì 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 e lui anche perché racconta tanti aspetti delle vicissitudini della scienza molto umane e poi in questa maniera così intrigante ecco in questo momento per esempio in macchina ascolto i suoi audiolibri o i suoi podcast quando mi fa conoscere tante cose della vita che non conoscevo per esempio della vita di 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 tesla che sono veramente interessanti e divertenti e quello sono fatto di conoscere in questa maniera intrigante mi piace però ripeto alla fine il senso della vita veramente è 42 42 sì concordo la risorsa più bellissimo libro bellissimo tra l'altro quello è un libro eh sì anche è un libro che che mescola tanti aspetti quello più fantascientifico appunto con con anche la filosofia con anche domande di un certo sì c'ha fantascientifico surreale filosofico psicologico beh insomma quasi anche forse denuncia politica pensa l'autostrada che deve passare sopra casa sua ah che lo deve tutta la casa e invece poi c'era il grande autostrada intergalantica e si è sempre diciamo a sud di qualcuno bellissimo libro grazie grazie mille però grazie a te Alessandro e magari quando voi si risente sì assolutamente vi seguirò perché ho visto un po' delle altre interviste che hai fatto sono sempre interessanti quindi grazie c'è intervista barbascura iscriverò vediamo no è simpatico vita li scrivo ok vediamo cosa risponde grazie mille grazie di nuovo veramente a meno barbascura poi c'è una sua audience quindi se lo intervisti secondo me puoi dare anche molta visibilità al tuo canale ma adesso li scrivo così mi hai dato un buon suggerimento vediamo cosa salta poi è molto molto simpatico veramente è proprio una persona gradevole vediamo no no assolutamente lo farò cioè io lo conosco così ho visto un paio di video poi non l'avevo mai seguito però può essere un'ottima idea grazie mille di nuovo ciao grazie a te buona serata buona serata e buone cose buone cose ciao ciao